gruppi corazzati dell'asse in esplorazione verso Teburba si scontrano con forze anglo-americane bombardieri all'attacco di gruppi corazzati statunitensi che tentano di avvicinarsi alle nostre linee osservate i carri nord americani fra le esplosioni delle bombe ecco i carri nord americani distrutti sul campo di Gedeida a pochi chilometri da Teburba un aereo da combattimento statunitense abbattuto questo apparecchio è armato di un cannoncino e quattro mitragliatrici questa era la posizione di un reggimento scelto britannico conquistata dopo brevi e violenti combattimenti in marcia verso Teburba gruppi esploranti dell'asse entrano nel paese che dominando l'accesso della zona montuosa dell'atlante ha una grande importanza strategica una bomba ha squarciato la strada in tutta la sua larghezza baragadutisti britannici prigionieri e questi sono i primi prigionieri statunitensi essi sono protetti da eletti di acciaio di nuovo modello